Viaggiatori su rotaia sempre più soddisfatti in Toscana. Secondo i risultati dell'indagine di Customer Satisfaction realizzata dalla Regione lo scorso autunno, negli ultimi tre anni la percezione del servizio ferroviario toscano è diventata sempre più positiva tra gli intervistati 4.750 utenti con un'età media di 32 anni che si muovono in treno soprattutto per motivi di studio o lavoro solo il 17% si è dichiarato insoddisfatto a fronte del 25% del 2012 mentre il numero dei pienamente soddisfatti è passato dal 32 al 39%. Gli abbonati risultano più critici degli utenti occasionali tuttavia anche tra i pendolari i pienamente soddisfatti sono aumentati del 10% e in totale il 35% ha promosso il servizio a fronte del 25% di tre anni fa. Un riconoscimento al grande investimento fatto dalla Regione sul fronte dei trasporti ferroviari. È migliorata la soddisfazione dei nostri pendolari, non siamo perfetti ma l'impegno fatemi dire anche la lotta e il Governo insieme hanno dato un risultato interessante. Tre anni fa insieme all'assessore Ceccarelli montavamo sui treni per denunciare una situazione non sostenibile. Da allora molti passi avanti sono stati fatti con nuovi treni, con nuovo materiale rotabile, con maggiore attenzione alla puntualità e come si vede da un'indagine approfondita la cosa si comincia a percepire anche tra i nostri pendolari. Bisogna fare meglio. L'indagine ha preso in considerazione 10 parametri dal senso di sicurezza alla puntualità. I giudizi più positivi dei viaggiatori sono andati alla cortesia del personale di bordo mentre il punto più critico resta l'adeguatezza e la pulizia delle toilette. Viaggiatori sempre più informati anche sugli strumenti a loro disposizione. Il 75% conosce la carta Pegaso per gli abbonamenti intermodali mentre il 64% sa di avere la possibilità di ricevere bonus e rimborsi in caso di disservizi. Dati positivi e spunti su cui lavorare e da cui la Regione ripartirà per continuare a migliorare il servizio ferroviario. Complessivamente in un rapporto di votazione da 1 a 5 quelli che danno la sufficienza o che promuovono a pieni voti il servizio sono l'83%. Ovviamente questo non è avvenuto a caso perché in questi tre anni sono entrati in servizio 60 treni nuovi, sono entrati in servizio treni che sono stati pesantemente ristrutturati. In questi tre anni abbiamo cercato di rafforzare molto l'informazione nei confronti dell'utenza. In questi tre anni c'è stato un aumento della regolarità praticamente in tutte le linee con una media di aumento del 3%. Siamo passati dall'89,8% del 2012 al 92% del 2015 quando è stata realizzata questa indagine.